Questa sera al Via, questa nuova partnership tra Affari Italiani e più Economia Campania, partiamo proprio da questo, come è nata questa unione? Io sto lavorando molto con Affari Italiani sul territorio regionale, abbiamo creato delle redazioni locali, siamo partiti da Milano, poi abbiamo fatto Roma, poi abbiamo fatto la Puglia, la Campania, cioè l'Emilia e adesso la Campania. E' quello di scendere sui territori per raccontare la realtà stando sempre più vicino alla gente, alla gente normale e ai fatti quotidiani della grande cronaca. Per la Campania perché è stata scelta una redazione irpina? E' un orgoglio per noi irpini avere una redazione di Affari Italiani Campana con una redazione irpina? La squadra di più Economia ci è sembrata di grande qualità, guidata da un bravo giornalista e dunque ci aspettiamo da loro la stessa qualità che abbiamo costruito su Affari Italiani in questi anni, tanto che siamo oramai a 700.000 utenti lettori al giorno con punte fino al milione come la settimana scorsa. E' già la redazione Campania in queste poche settimane, ha già risultati straordinari e tra le pagine locali, la pagina più letta, ha già circa 300.000 utenti. Quali saranno i prossimi passi di Affari Italiani? Ma adesso stiamo studiando sbarchi in altre regioni, sembra essere pronta la Toscana. e direi che vogliamo consolidare questo grande successo, ci definiscono i grillini del web, nel senso che abbiamo interpretato il bisogno di nuova informazione, fuori dai giornali tradizionali che sono oramai di proprietà dei grandi gruppi industriali e finanziari e sono diventati strumenti di pressione politica, di business, di lobbying. Noi vogliamo restituire agli italiani un giornale che voglia semplicemente fare informazione, informazione indipendente e che coltivi una forte idea di autonomia dal potere, dal palazzo. Perché non si può fare giornalismo se si è in commistione col potere. Noi il potere dobbiamo raccontarlo senza fare lotta continua, ma con grande severità e obiettività. E un po' col sorriso. Vogliamo essere nel sistema, ma non del sistema. Ci giochiamo la nostra credibilità su una consonante. Stiamo con Marco Miele, titolare dell'azienda Miele Più, insieme ai suoi fratelli Paolo e Giuseppe. Marco, la tua azienda è leader nel settore dell'idrotermosanitario. Innanzitutto, come rappresentante di Più Economia e della redazione campana di affari italiani, ti ringrazio per averci ospitato qui nel tuo showroom. Quanto è importante un'iniziativa come la nostra per la provincia di Avellino? La prima cosa io ringrazio voi per avermi reso partecipe di questa meravigliosa iniziativa che vi vede al centro dell'informazione nazionale e quindi sicuramente con la vostra professionalità e il vostro grande senso di responsabilità saprete con grande autonomia rappresentare quello che di buono questo territorio riesce a esprimere. Quindi a noi come aziende e come famiglia abbiamo ritenuto importante essere qui con voi per sostenere e evidenziare come questo territorio riesce con le sue eccellenze ad andare in controtendenza rispetto a questo momento di degrado sociale e culturale che purtroppo dobbiamo assolutamente arginare. Quindi complimenti a voi che siete stati selezionati da una grande testata giornalistica nazionale ad essere riferimento per la regione e di tutti gli avvenimenti economici e sociali che si svilupperanno per i prossimi anni. Quindi grazie. Marco parlavi di degrado sociale, culturale, potremmo parlare anche di una situazione molto difficile dal punto di vista economico. La tua azienda che momento sta vivendo? Nel senso come state reagendo a questo momento di degrado e quindi quale consigli vi sentite di dare agli imprenditori che vivono un momento di difficoltà? Sicuramente oggi abbiamo bisogno un attimo di avere la lucidità per rivedere le nostre aziende, per cercare di proiettarle con coraggio in un mercato che sta cambiando in maniera radicale. C'è tutto un mondo in cambiamento, anche il nostro mercato sta cambiando e ha bisogno sempre di più di investimenti in formazione, in cultura del settore e grande concentrazione su tutto quello che è l'innovazione, che nonostante tutto avviene e quindi c'è bisogno assolutamente di coinvolgere tutta l'azienda, tutti i collaboratori in un grande sforzo di aggiornamento continuo. I mercati sono in crisi ma non si fermano mai, possono scendere del 3, del 4%, ma comunque il 94-95% del mercato dell'anno precedente lo confermano, quindi bisogna cercare di essere sempre aggiornati, migliori degli altri per essere poi scelti e per confermare la fiducia dei clienti che comunque nonostante il momento ci continuano a preferire grazie allo sforzo di tutti uno staff che assolutamente lo ritengo all'altezza del momento. Marco, la tua azienda è anche impegnata nel sociale, voi siete partner del FAI, oltre che impegnati in prima linea per le energie alternative. Qual è la diffusione delle energie rinnovabili al sud e soprattutto come voi cercate, quale politica adottate per favorire la loro diffusione sul territorio? Diciamo che la cultura di impresa richiede una dimensione anche sociale dell'impresa stessa, non possiamo continuare a chiedere al territorio senza restituire qualcosa ad un territorio che comunque ci deve garantire personale formato, uno stato di tranquillità sociale, quindi ovviamente nel nostro piccolo, piccoli contributi cerchiamo di darli aderendo a iniziative che comunque consentono di stimolare e di supportare iniziative di carattere sociale. Siamo Golden Partner FAI perché crediamo alla tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio, ci abbiamo creduto e continueremo a cercare di tutelare quello che è una delle risorse più importanti non solo italiane ma anche campane che è quello del patrimonio artistico. Poi siamo presenti in diverse iniziative nelle rinnovabili, nella formazione, cerchiamo con un'iniziativa che si chiama Progetto Genesi di diffondere attraverso corsi di formazione anche la sensibilità del mondo professionale e del privato all'intervento verso il risparmio energetico che rappresenta assolutamente il nuovo driver di sviluppo sia per i mercati sia per le professioni. Oggi non si tratta più di generare energia ma di risparmiarla e quindi tutti i piccoli interventi, in piccole iniziative domestiche possono assolutamente contribuire al ridurre quello che è lo spreco energetico che ahimè tutte le nostre abitazioni subiscono. Un'ultima battuta, quanto è importante soprattutto in questo momento di degrado sociale, economico e culturale l'impegno degli imprenditori nel sociale e per la cultura? Ritengo che oggi tutti coloro che esprimono una posizione all'interno della società devono con grande senso di responsabilità cercare di contribuire per arginare il degrado. Degrado che oggi viviamo alla fine di una settimana terribile per noi campani, per noi meridionali abbiamo vissuto la distruzione del simbolo della cultura campana che è la città della scienza luogo dove andavamo a rifugiarci e dove portavamo i nostri figli per fargli vivere un momento di novità, di innovazione, di cultura scientifica e oggi ce l'hanno sottratta, quindi dobbiamo ognuno fare la propria parte per dimostrare che siamo un territorio dove si può ancora credere nella cultura e nell'innovazione. Oggi ho purtroppo avuto la conferma da ospiti di quella serata che negli ultimi mesi molti figli della nostra terra sono andati fuori a Milano, c'è un'immigrazione intellettuale che impoverisce il territorio. Questa la dobbiamo assolutamente fermare, ci vuole la responsabilità della classe politica, della classe imprenditoriale, del mondo professionale, nessuno si può sottrarre consenso di responsabilità a questa sfida. E oggi che ci avviciniamo anche alle amministrative io penso che noi possiamo affrontare questo impegno politico con la classica sfida politica del tutti contro tutti. L'imprenditore lancia un messaggio alla classe politica che è quello di cercare con senso di responsabilità di riunirsi e di cercare di selezionare una classe dirigente che sia in grado nei prossimi anni di arginare il declino e di cercare invece di dare speranza alla cittadinanza. Quindi questo è un grido di allarme che lancio da imprenditore e penso di interpretare anche il sentimento di tutti della classe imprenditoriale. Presidente dell'Ordine dei giornalisti della campagna Ottavio Lucarelli, questa mattina siamo qui a presentare la pagina Campana di Affari Italiani. Una bella occasione? Sì, una bella occasione, bellissima occasione, bella notizia per le informazioni, per i giornalisti, per tutti i colleghi che sono impegnati. In un momento tra l'altro molto complicato per l'informazione a tutti i livelli, nazionale e regionale, finalmente una buona notizia. Quindi un portale importante come Affari Italiani.it, uno dei primissimi, non tra i primi, tra i primissimi in Italia, che investe, che crede sulla campagna, dove poi tra l'altro trova un terreno fertile, perché abbiamo appunto come primo riferimento più economia, che è già un sito che si è in post giovane, con colleghi giovani ma già molto esperti, che si è già imposto rapidamente e con tutta una serie di altre sinergie, con altri colleghi impegnati in campagna. Quindi questo dimostra innanzitutto che c'è un dato importante, è che c'è ancora chi crede nella nostra regione. Noi siamo la seconda regione in Italia per abitanti e abbiamo comunque un'informazione in difficoltà molto articolata e molto preparata. E poi dimostra che sul terreno, sul campo abbiamo tantissimi giovani giornalisti, ma già esperti e lanciati soprattutto nel mondo del web. Novità assoluta, la redazione sarà ad Avellino. Sì, sì, infatti questo è un dato importante e dimostra appunto qual è la vivacità della nostra regione, che è una vivacità a tutti i livelli, a livello territoriale. In questo caso appunto Avellino, che è sempre stata un'area della campagna culturalmente molto avanzata, lo è dal punto di vista culturale, lo è dal punto di vista giornalistico. Insomma, nonostante la crisi qualcosa comunque si muove. Sì, ma infatti oggi sono particolarmente contento, senza dimenticare, naturalmente in questo stesso momento, tutti gli altri colleghi in tante altre redazioni che stanno lottando, colleghi per i quali è scattato, sta scattando la cassa integrazione, colleghi che non hanno lo stipendio a diversi mesi. Quindi in una situazione nazionale e campana molto difficile, arriva questa bella notizia che è una bella boccata d'ossigeno importante, quindi un in bocca al lupo a tutti, in particolare ai giovani che sono impegnati in queste iniziative.